Ciao a tutti e benvenuti nel canale Porcospino Curioso. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale e mettere mi piace ai video per supportarci. Rimani fino all'ultimo, perché abbiamo una domanda per te. Nella scogliera sottostante la stazione centrale della città di Catania, è stato rinvenuto il corpo di una donna identificata come Maria Guerrera, 35 anni, ieri pomeriggio dai vigili del fuoco del comando provinciale. Maria era stata segnalata come dispersa dal 25 luglio scorso, quando si era allontanata improvvisamente da casa senza alcun apparente motivo. Per recuperare il corpo, i vigili del fuoco hanno impiegato una squadra specializzata, tra cui il nucleo speleo alpino fluviale provinciale e l'elicottero FV145 del reparto volo di Catania. La posizione difficile tra gli scogli ha reso necessario l'uso di tecniche derivate dagli specialisti in speleo alpino fluviale, oltre al supporto dei sommozzatori, per raggiungere la donna. Con il loro intervento, il cadavere è stato recuperato e inizialmente trasportato sulla banchina della Capitaneria di Porto, per poi essere successivamente portato all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Catania, dove saranno effettuati i consueti accertamenti. Questo evento tragico ha scosso la comunità locale, e ora le autorità dovranno indagare sulle circostanze della morte di Maria Guerrera per far luce su quanto accaduto. E tu cosa ne pensi? Questa povera ragazza è stata uccisa o semplicemente affogata? Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.